buonasera grazie a tutti voi siamo qui col premio chiara e siamo qui col premio chiara perché è anni che veniamo adazzate e c'è un gruppo di persone che continuano di anno in anno anche se cambiano a tenere sempre diciamo un collegamento col premio chiara premio chiara voi sapete che vive da 34 anni è un premio letterario dedicato al racconto perché il racconto perché era la grande specificità di piero chiara a lui piaceva raccontare era un grande affabolatore per cui noi siamo uno dei premi diciamo se non l'unico reale vero sul racconto racconto edito dell'anno poi racconto del premio chiara giovani che quest'anno la traccia è desiderio e abbiamo abbassato eh il livello diciamo di età dai quindici ai vent'anni perché l'anno scorso abbiamo ricevuto quattrocento racconti e il racconto la traccia era libertà e ci scrivevano e dicevano se ralazzati ma cosa scrivo della libertà che non c'erò è proprio per quello adesso i desideri vedremo che volessero i desideri il premio si è chiuso l'altro ieri ne abbiamo già avuti però duecento e il desiderio perché perché non c'è effettivamente eh tanto discorso sia per i bambini che per i giovani diciamo anche soprattutto per l'età scolare cosa desideri ti guardano con gli occhi così spalancati e dicono ma ci devo pensare il desiderio invece dei bambini non arriva neanche perché non arriva neanche perché i genitori li hanno già preso non riescono a desiderare il triciclo non riescono a desiderare la palla che ce l'hanno già per cui cerchiamo che questi desideri ci siano perché effettivamente come vi ricordate nella favola i sogni sono desideri noi siamo qui stasera come premio Chiara e siamo qui per una c'è sempre stata una una vena diciamo nel premio Chiara di parlare al nostro pubblico di parlare alla cultura e di essere vicini anche per problematiche problematiche che sono state diciamo proprio affrontate anche in questo teatro da grandi psicologi che ci aiutano in un momento difficile qui noi avremo un discorso sicuramente di problematica ma anche di uscire positivi da questa problematica chiamerei qui gli amici di Azzate chiamo il sindaco Bernasconi poi abbiamo vice sindaco mi hanno detto che non è arrivata l'assessore alla cultura Vignola buonasera e poi abbiamo anche Nicola Tucci che è il presidente della Proloco e abbiamo Marica che è la direttrice della biblioteca allora sindaco e buonasera a tutti buonasera Bambi intendo buonasera premio Chiara che approda dopo tanti anni che approda l'Azzate anche quest'anno 2022 torna con diversi eventi il primo questa sera per cui benvenuto premio Chiara benvenuta Bambi che lo porti in tutta la provincia e benvenuti ai nostri ospiti di questa sera dottor Veronesi la dottoressa Gliotta che affronteranno una tematica delicata e che è una tematica ne parlavo prima col professor Veronesi Bambi è una tematica che ad Azzate appassiona nel senso più vero del termine professore nel senso che è un tema su cui diversi cittadini si sono fatti parte attiva e hanno creato le premesse affinché si possa davvero andare nella direzione della prevenzione da diversi anni facciamo una serie di eventi a ottobre dove il comune dà soltanto il patrocinio e poi sostiene per quello che può e per quello che serve queste iniziative e queste iniziative si sono allargate sempre più sul territorio fino a diventare un'iniziativa di tutta la nostra valbossa e dei paesi che sono con termini e questo è molto bello perché significa che c'è attenzione a questa tematica c'è sensibilità sensibilità ci sono persone che l'hanno presa proprio a cuore il fatto di essere qui con lei questa sera che ci racconta da un punto di vista diverso forse anche professionale questa tematica va in quella direzione di continuità io mi fermo qui perché poi passo la parola ai colleghi e ringrazio tutti coloro che sono voluti venire questa sera perché penso che sarà una bella serata in cui avremo la possibilità di sentire parole sentire esperienze e sentire punti di vista che ci formeranno e ci daranno ancora più slancio nell'affrontare questo problema e nel prevenirlo che è la cosa credo più importante ecco benvenuti a tutti e benvenuto professore e professoressa grazie sindaco grazie a tutti voi che mi siete sempre vicino che mi aiutate ogni momento che ed è importante l'amicizia e condividere il premio chiara e condividere gli eventi questo bellissimo teatro e andiamo avanti allora ok grazie allora allora questa è la primavera della cultura al premio chiara ed è la seconda parte perché la prima parte è stata già realizzata diciamo nei mesi di marzo qui siamo aprile maggio e vi dico e vi leggo solo una cosa oltre questo incontro avremo venerdì alla biblioteca frera perché cerchiamo sempre di dare anche delle location che la gente possa conoscere tante persone sicuramente non sanno che alzate aveva questo teatro così importante per cui essere qui è un piacere invece avremo alla biblioteca frera di tradate i apoco dei michelis che presenta un libro che è un giallo e viene condotto da luca crovi poi avremo claudia donadoni che è invece realizzato questo questo suo primo romanzo viene presentato alla provincia di varese in villa recalcati che adesso in questi periodi è chiuso è chiuso al pubblico però per noi aperto poi un appuntamento importante domenica 15 maggio premio chiara la carriera a chi a corrado augers il quale ha espresso veramente ha accettato subito di venire saremo a luino in un altro teatro grande e per il premio chiara la carriera è un fiore all'occhiello l'anno scorso l'avevamo dato a architetto mario botta svizzero l'anno prima l'avevamo dato a pupia vati per cui abbiamo abbiamo iniziato con camilleri e tutti erano vivi adesso succede questo che dopo al 34 anni di premio la carriera però l'albo d'oro è importantissimo perché uno viene augia saletto l'albo d'oro ha detto io ci sono vengo a ritirare questo premio e questo per noi è una cosa bella ed è importante domenica 22 maggio invece a varese da faremo un omaggio per luigi zanzi e che conoscevete tutti come professore e come alpinista e per cui ci saranno diversi personaggi della famiglia che daranno il loro contributo allora adesso io voglio presentare far salire sul palco liotta liana liotta qui giornalista e soprattutto ecco lei che dopo sarà intervistata perché ha realizzato tutta questa collana importante per le donne è importante per determinate problematiche grazie per il tuo invito carissima bambi grazie al sindaco le autorità e grazie a tutti voi per essere qui chiamiamo valentina lazati valentina lazati che conosce bene loro e condurrà questo incontro che sarà un incontro sicuramente di formazione ma anche un incorto piacevole il professor paolo veronesi grazie premio chiara e sono molto contenta di essere qui quando bambi mi ha chiamata e mi ha detto valentina te la sentiresti di intervistare eliana liotta e paolo veronesi ma sai che te lo chiedo non come figlia ma come professionista perché stavo pensando a chi chiederlo e detto mamma ci sono ci sarò e quindi eccoci qui eliana liotta giornalista e divulgatrice scientifica la scienza è una grande ha una grande responsabilità etica e serve a civilizzare quindi il fatto che questa collana si chiami scienza per la vita mi ha subito incuriosito e ti chiedo come è nata questa questa collana di libri questa collana è nata per raccontare le novità ma anche le idee sedimentate della scienza in libri che sono un oggetto sembrerebbe antichissimo desueto e che invece sono un mezzo per potere con un andamento più lento ma anche più ragionato proporre dei concetti utili nella vita di tutti i giorni messi appunto dagli scienziati nel loro laboratorio nelle corsie degli ospedali e poi però riportati a tutti nella vita di tutti i giorni paolo non lo sai gli faccio una sorpresa non sai neanche tu valentina ma prima di venire ho ricevuto una lettera voglio leggervela perché in momenti drammatici come quelli che noi attraversiamo di cui parlava anche bambi lazzati secondo me ci dà una prospettiva più ampia ci dice tante cose su quello che significano i libri su quello che può significare questo libro la vittoria sul cancro che ho voluto fortemente nella mia collana e che è firmato da paolo un libro bellissimo paolo veronesi è un amico ma questo è un libro veramente splendido ed è un libro così bello che oggi mi è arrivata una lettera da un editore russo e la maggiore casa editrice russa e mi scrive così cari editori in questi giorni il mondo sta attraversando un enorme terribile tragedia mi scrive così perché vorrebbero tradurre in russia il libro di paolo la vittoria sul cancro di questa collana e questo editore praticamente mi manda una lettera di scuse i nostri dipendenti e i nostri autori collaborano con l'ucraina e io ho parenti lì e questi sono i giorni più orribili e disperati per molti russi così come per gli ucraini i nostri bambini si scambiano messaggi con i loro amici ucraini quelli che devono nascondersi negli scantinati e nei rifugi antiaerei di Kiev e Kharkov e non riescono a capire che pasticcio abbiano combinato gli adulti come siano potuti arrivare a questo punto secondo me anche noi editori siamo responsabili di quanto accaduto siamo tra i responsabili dello sviluppo delle idee e della comprensione reciproca e il fatto che per molte persone le armi rimangano ancora un argomento più importante delle parole è una nostra drammatica carenza significa che essendo io il direttore generale della più grande casa editrice russa non ho fatto del mio meglio per prevenire questa situazione spero e prego per la più rapida risoluzione pacifica del conflitto ma dobbiamo imparare la lezione e creare più ponti culturali per eliminare per sempre le armi dall'elenco degli argomenti in una controversia distinti saluti ecco i libri sono ponti punti culturali eliana complimenti anche per altri libri che è scritto best seller della dieta smart food oggi però parliamo in particolare di della vittoria sul cancro di paolo veronesi paolo è direttore dell'unità operativa di senologia all'istituto europeo di oncologia presidente della fondazione umberto veronesi professore ordinario in chirurgia generale all'università degli studi di milano e questo libro è una guida una guida affettuosa e umana rivolta a tutte le donne quando hai iniziato a scriverla qual era l'obiettivo di questo libro innanzitutto grazie Valentina innanzitutto buonasera a tutti grazie per essere venuti qua stasera dopo cena a parlare di cose tra virgolette serie quindi niente di particolarmente divertente e davvero apprezzo molto che siate che siate qua con me stasera facciamo un passo indietro per da dove è nata l'idea l'idea naturalmente non l'ho avuta io io non ci pensavo neanche a scrivere un libro l'idea come sempre è venuta da Eliana che mi ha detto facciamo un libro sul tumore della mammella e io ho detto ma va una fesseria perché tanto chissà quanti ce ne sono e poi appunto oggi trovi tutte le informazioni sulla rete trovi trovi scritto di tutto anche solo sul telefonino senza fare tanta strada e lei invece mettono ma guarda che però un libro come appena detto lei è una cosa diversa una cosa che resta è una cosa che ha un'altra velocità non è una cosa che consulti così in tre secondi ma leggi l'apprezzi la legge anche in fretta oggi mi ha scritto una signora e ha letto il suo libro in due ore quindi cosa che si fa si legge rapidamente e allora abbiamo guardato effettivamente un libro così forse mancava e allora ci siamo messi e mi ha dato giù tutta una serie di argomenti e ho cominciato a mettere giù quello che che interessava e l'idea era proprio quella di fare una guida come hai detto una guida che fosse facile da capire facile da comprendere di rapida lettura che però chiarisse tutti quegli aspetti che possono interessare una persona sia che ha avuto questa esperienza la sta attraversando l'ha attraversata o si prepara ad attraversarla quindi anche banalmente da come si legge un referto da come interpretare i termini che possono delle volte spaventare magari in maniera del tutto ingiustificata se uno conosce veramente il significato di quella parola e non la trova invece solo su su internet dove le descrizioni fanno molto spesso paura e poi anche appunto per quelle persone che semplicemente vogliono farsi un minimo di cultura su argomento e capire anche come fare una prevenzione adeguata perché stiamo parlando purtroppo della malattia più frequente la malattia oncologica più frequente per la popolazione femminile parliamo di mille nuove diagnosi di questo tumore ogni settimana nel nostro paese quindi una malattia che praticamente va a colpire quasi più del 10 per cento delle donne nel corso della vita e quindi è un problema anche sociale non solo non solo non solo medico e quindi lì ho cercato di affrontare un po' tutti questi vari argomenti in maniera però discorsiva semplice e facile da capire per tutti io ho usato l'aggettivo gentile quando gentile è affettuosa quando ho dovuto preparare la scheda del libro e poi vedete anche questa fascetta che si fa quando ci sono degli autori importanti nei libri si mette la fascetta sonzogno è una casa editrice per metà marsilio e per metà feltrinelli quindi il libro finisce in tutte le librerie ma con una particolare attenzione nelle librerie del gruppo feltrinelli allora questo ve lo dico che è una curiosità quindi quando ci sono degli autori noti come Paolo si fa la fascetta con la fotografia e quando ho dovuto pensare alla scritta per la fascetta mi è venuto in mente che questa guida era gentile perché è vero che è una guida con tante informazioni per le pazienti ma anche per tutte le donne queste magari se ne possono trovare però dicono i francesi se le ton che fa la musica in questo caso è un tono veramente garbato e si capisce vicino alle alle donne che incorrono in questo problema e Paolo ha nei commenti se andate a vedere nel suo profilo nei suoi profili social ci sono i commenti delle sue pazienti che attestano quanto lui sia gentile non solo nelle parole causato nel libro ma anche nelle nelle visite di queste persone che che avranno attraversato dei momenti difficili e per cui la gentilezza è a maggior ragione importante sì sono d'accordo penso che questa guida arrivi così diretta proprio perché c'è la parte emotiva la parte empatica di Paolo ma anche con questo solidità del fondamento scientifico perché ogni cosa ha un riferimento e quindi delle informazioni che arrivano in questo modo con una voce gentile ma con una base così solida veramente aiutano e danno tanto coraggio e quindi volevo anche che tu parlassi un pochino della prevenzione di quanto è importante la prevenzione primaria certo Valentina allora il c'è proprio un capitolo che riguarda la prevenzione perché quando parliamo di tumore della mammella di tumori in generale anzi di malattie in generale e adesso ci focalizziamo sul numero della mammella abbiamo due tipi di prevenzione una prevenzione che si chiama primaria che significa ridurre il rischio di ammalarsi o cercare di non ammalarsi di non ammalarsi proprio e poi c'è la prevenzione secondaria che vuol dire ridurre il rischio di morire per una certa malattia e nel tumore della mammella in realtà ecco la prevenzione primaria naturalmente si può fare molto bene quando si conoscono le cause di una malattia ad esempio per le patologie cardiologiche da quando si è scoperto che la pressione alta aumenta il rischio di infarto ecco che tenendo bassa la pressione si fa una prevenzione primaria e si evita di andare incontro all'episodio acuto. Sul tumore della mammella purtroppo non conosciamo in realtà la causa di questa malattia e quindi è un po' più difficile sappiamo che c'è una piccola percentuale dal 5 al 10 per cento che è causato da un'anomalia genetica che quindi si eredita dai genitori si eredita una predisposizione ad ammalarsi e quindi si ha un rischio molto alto di ammalarsi nel corso della vita un rischio che può arrivare al 70 80 per cento per le donne che hanno questa mutazione ereditata da uno dei due genitori quindi si può ereditare anche dal papà perché molti pensano quando chiedo se ci sono stati casi di famiglia dicono no no da parte di mia mamma non c'è stato nessun tumore non c'entra niente perché il papà ovviamente può trasmettere la stessa informazione genetica sbagliata alla figlia chiaramente il papà essendo un uomo non si ammala però può trasmettere questa alterazione ai figli e quindi questo però riguarda una piccola percentuale di donne che si ammalano che naturalmente devono fare se sanno di avere questa predisposizione una prevenzione completamente diversa sia in termini di controlli molto più serrati fino ad arrivare a volte avere i propri interventi chirurgici profilattici di asportazione delle ghiandole mammari invece per il 90 per cento delle donne che si ammalano non sappiamo in realtà qual è la causa quindi è anche difficile fare una prevenzione primaria però sappiamo che ci sono dei fattori di rischio dei fattori di rischio che aumentano il rischio di ammalarsi e su questi noi possiamo agire soprattutto su cui possiamo agire su quelli modificabili alcuni non lo sono l'età per esempio il fattore di rischio più importante più gli anni passano più si corre il rischio di ammalarsi ma su questo non ci possiamo fare niente quello su cui possiamo invece agire in maniera importante sono gli stili di vita che noi sappiamo che stili di vita sbagliati per quello che riguarda alimentazione attività fisica soprattutto aumentano il rischio di ammalarsi quindi bisogna combattere la vita sedentaria e purtroppo oggi è sempre più più diffusa si esce sempre meno si si muove sempre meno e infatti questo tumore continua ad aumentare di incidenza anno per anno e quindi fare attività fisica regolare tutti i giorni senza fare le maratone però anche solo una camminata passo veloce per 30 40 minuti al giorno sicuramente riduce il rischio di ammalarsi come pure un'alimentazione adeguata che vuol dire un'alimentazione povera di calorie quindi evitare sovrappeso queste dentarietà e sovrappeso vanno anche spesso d'accordo ridurre naturalmente anche quei cibi ad alto indice calorico ad alto indice glicemico ridurre possibilmente grassi animali preferire i vegetali tutte cose che poi gli hanno scritto dei trattati su questo e quindi non casomai lasciamo la parola però anche questo e questa è la prevenzione primaria che aiuta aiuta molto a ridurre il rischio di di ammalarsi quello che invece su cui invece siamo molto più ferrati nel campo del tumore della mammella la cosiddetta prevenzione secondaria perché si identifica con quella che chiamiamo diagnosi precoce perché sappiamo da tanti anni ormai che quando questo tumore viene diagnosticato in fase iniziale cioè quando è molto piccolo le possibilità di guarigione sono elevatissime nella nostra esperienza posso dire che i tumori diagnosticati solo con mammografia ed ecografia quindi prima che si rendano manifesti clinicamente cioè prima che si senta qualche cosa un nodulo o che diano qualche segno di sé sulla persona ma diagnosticati solo grazie agli esami e quindi operati rapidamente hanno una guarigione a cinque anni che supera il 98 per cento quindi praticamente una malattia praticamente potremmo quasi definirla benigna invece tumori naturalmente scoperti più avanzati non facendo esami ma solo perché ci si accorge di qualche anomalia e magari si ritarda anche nell'andare dal medico perché c'è sempre un po di di paura di un intervento paura di una terapia eccetera quindi uno cerca sempre di rimandare e allora quando arrivi con un tumore più avanzato oggi molto spesso si guarisce però certamente non al 98 per cento ma magari all'80 85 per cento e quindi parlando poi di grandi numeri ovviamente i rischi i rischi aumentano in maniera significativa e per fare questa diagnosi precoce ovviamente bisogna fare gli esami giusti all'età giusta innanzitutto sappiamo che questo tumore difficilmente colpisce ragazze molto giovani a parte quelle che hanno una mutazione genetica però siamo sotto i 30 35 anni una malattia del tutto eccezionale e quindi si può cominciare a fare un'adeguata prevenzione a partire dai 30 35 anni appunto banalmente con un esame ecografico un esame che utilizza ultrasuoni senza radiazioni ripetibile tranquillamente tutti gli anni va fatto da un medico esperto un esame comunque cui la soggettività è importante quindi essere un esperto in senologia e però ci consente di vedere oggi nodule anche molto molto piccole anche sotto il mezzo centimetro e poi verso i 40 anni invece cominciare con l'esame più importante che è la mammografia è l'esame diciamo cardine diagnostica senologica da partire dagli anni 70 quindi da ormai 50 anni oggi è sempre più raffinata perché si utilizzano metodiche tridimensionali con mammografi digitali e dai 40 anni conviene fare questo esame tutti gli anni perché anche questo può scoprire dei tumori in fase inizialissima a volte sono solo delle piccole calcificazioni delle micro calcificazioni che sono la spia proprio di una iniziale proliferazione di cellule tumorali che possiamo andare a togliere così evitare che si sviluppi il tumore vero e proprio quindi proprio questo tipo di di prevenzione deve far capire che facendola la diagnosi è precoce e quindi il tumore è curabile. Il tumore è curabile tra l'altro con un intervento veramente invisibile perché se è molto piccolo oggi facciamo delle cose assolutamente invisibili le terapie anche sono molto più leggere e quindi diventa una cosa assolutamente affrontabile senza compromettere nessuna maniera la vita successiva. E quindi non bisogna avere paura. Ma guarda la cosa che mi piace di questi libri della collana scienze per la vita è che naturalmente ciascuno affronta un argomento specialistico perché si tratta di libri scientifici però i libri allo stesso tempo raccontano di più raccontano della vita di tutti noi proprio all'inizio si legge che dalla notte dei tempi i medici migliori imparano la speranza. Questo in realtà è un libro che ci insegna che dobbiamo imparare a sperare come dice il filosofo tedesco Ernst Bloch perché la speranza allarga gli uomini invece di restringerli. Pensate alle nostre vite quotidiane non se abbiamo una malattia se abbiamo un parente col covid purtroppo noi stessi l'abbiamo avuto che è un reference di questi due anni. No pensiamo alle nostre vite di tutti i giorni ai nostri crucci. Quando restiamo preoccupati e chiusi in noi stessi ci fissiamo nel presente e rimuginiamo sul passato. Quando invece ci apriamo alla speranza davvero guardiamo al futuro e abbiamo maggiori possibilità di risolvere i problemi e di farcela. Io credo che oltre a raccontarci tante cose sulla prevenzione sul tumore al seno questo libro ci insegni ad avere più fiducia nei progressi della scienza e in quelle sorprese che il futuro può riservarci positive. Sì è vero anche il capitolo togliersi il tumore dalla testa e quindi cercare di distrarsi con un'attività sportiva con gli affetti. È vero che inizialmente una volta ricevuta la diagnosi come diceva Paolo c'è come una vita pre-tumore e una vita post perché ti stravolge. Però si percepisce proprio la forza di poter andare avanti e ce la si fa e le cure ci sono. Anche la possibilità che era impensabile solo forse 15 anni fa di poter mantenere la fertilità è una cosa incredibile un passaggio. Infatti oggi davvero abbiamo fatto progressi davvero impensabili fino a pochi anni fa nella cura di questa malattia nella possibilità di fare una vita attiva normale e felice anzi direi dopo l'intervento chirurgico, dopo aver superato la malattia, di avere dei figli, di costruirsi una famiglia anche perché spesso sono donne giovani o diciamo relativamente giovani nel senso che oggi la prima gravidanza non è più a 15-20 anni come una volta ma molte donne la rimandano dopo i 30-35 addirittura anche dopo i 40 anni e magari vanno a incrociarsi nel loro destino con questa malattia mentre stavano proprio per affrontare un progetto di vita di questo tipo e quindi sono giustamente preoccupate però noi davvero oggi possiamo rassicurarle che una volta superata la malattia possono mettere in cantiere naturalmente con le dovute tecniche adeguate di preservazione della fertilità possono mettere in cantiere anche un progetto importante come quello di avere una gravidanza. Io non sono tanto d'accordo su quello che hai detto che è una cosa che ti stravolge completamente la vita io penso anzi che questa malattia sia appunto diagnosticata per tempo affrontata in maniera adeguata deve essere vista poco più che come un piccolo incidente diciamo di percorso non deve essere un'etichetta che uno si porta dietro tutta la vita di paziente anzi questa è una piccola critica che volevo farti me ne sono accorto dopo alla fascetta perché qui parli di una guida è gentile per le pazienti oncologiche e questo è un termine che non amo molto pazienti oncologiche non ti piace non lo dicevi Paolo perché non lo dicevi perché non ti piace pazienti oncologiche non mi piace perché sembra che uno abbia un'etichetta che si deve portare dietro tutta la vita non ha quella persona normale questa invece è una paziente oncologica come se fosse un destino segnato che per forza succede qualcosa questa è una malattia che si supera come tante altre malattie non è che c'è scritto paziente cardiologica o paziente con un'etichetta se hai un episodio acuto come può essere un tumore della mammella lo superi fare le tue terapie poi fare i tuoi controlli che peraltro si tratta poi di fare una mammografia o ecografia una volta l'anno come tutte le altre donne e ritorni alla tua vita normale anzi questo è un tema molto sentito oggi anche così all'interno delle società scientifiche questo il diritto cosiddetto all'oblio cioè la possibilità una volta superata la malattia di dimenticarsene che se ne dimentichino tutte che non è più questa etichetta di paziente oncologica che sei una persona normale come tutte le altre poi certo che la vita presenta delle incertezze non è che sei sicuro di vivere cent'anni ma come non lo è nessuno nessuno di noi capito no per cui è una cosa che non ti cambia alla fine più di tanto la vita soprattutto se ripeto la diagnosi è precoce parliamo di una malattia che ha un percentuale di guarigioni elevatissime poi c'è tutto il discorso invece delle diagnosi invece più tardive delle malattie avanzate delle pazienti con le metastasi che chiaramente hanno problematiche diverse hanno anche necessità di accedere di avere diciamo dei diritti tra virgolette diversi ovviamente anche in ambito sociale medico lavorativo e sono pazienti che una volta praticamente non esistevano perché pazienti con le metastasi un po' di anni fa purtroppo la sopravvivenza media era di un anno e quindi non vivevano molto lungo oggi invece sono pazienti che possono vivere in maniera assolutamente con una qualità di vita assolutamente buona per tanti anni è una malattia che si può cronicizzare per tantissimi anni con una qualità di vita buona in alcuni casi addirittura si può parlare di guarigioni per alcuni tipi di tumori grazie alle nuove terapie che abbiamo e quindi anche questo è una popolazione che ogni anno cresce perché sono persone che hanno sviluppato una malattia avanzata che però sopravvivono con le loro problematiche e che devono essere naturalmente considerate all'interno della società. Però è vero che la terminologia in questo ambito è particolarmente delicata perché qualsiasi termine usi rischi comunque di scontentare qualcuno. Noi abbiamo deciso di fare questo titolo la vittoria sul cancro che è un titolo impegnativo con questo naturalmente non vogliamo dire che ogni tipo di tumore potrà essere guarito è la grande speranza e l'obiettivo della scienza di arrivare come diceva il papà di Paolo il grande Umberto Veronesi a mortalità zero. Questo diciamo è il grande sogno della scienza ma anche su questo sono arrivate delle critiche da parte di quelle che si sentono pazienti oncologiche per svariate ragioni. Quindi è un tema che continua a essere delicatissimo. Io credo che la cosa importante sia parlarne senza remore. Vi ricordate com'era fino a vent'anni, trent'anni fa che non si doveva dire la parola tumore, la parola cancro perché davvero si era in qualche modo marchiate. E invece adesso siamo nel 2022 con un libro che può avere la parola cancro grande, grande, grande nel titolo. E questo mi sembra già un passo coraggioso e importante. E poi ti devo dire che le vendite, adesso faccio invece un discorso proprio da editoria, ma l'editoria è anche quello d'altra parte, però le vendite stanno andando molto bene di questo libro, quindi è davvero un libro che mancava e quindi è a tutti gli effetti un bestseller. E ne sono felice, ma non adesso a parte gli scherzi per me o per Paolo, ma perché vuol dire che abbiamo portato in libreria un argomento di cui si sentiva il bisogno. E poi è rivolto non solo a persone che stanno vivendo o hanno vissuto una problematica di questo tipo, ma anche alla sorella, alla mamma, al marito, veramente ad ampio raggio a tutte le donne, ma anche ai parenti perché aiuta anche a convivere con qualcuno nella famiglia che al momento sta vivendo questa situazione. E senti, quanto è importante fare riferimento a dei centri specializzati, a delle breast unit? Anche questo è un argomento interessante, devo dire che nel nostro paese siamo piuttosto avanti sulla terapia di questa malattia, anzi possiamo dire che in Italia è il posto dove si guarisce meglio di tumore della mammella in Europa e quindi praticamente nel mondo, perché c'è una lunga scuola, una grande tradizione, e perché si sono finalmente strutturate in tutte le regioni italiane queste cosiddette breast unit, volute da un decreto ministeriale, anzi prima dalla comunità europea, che poi con una legge che è stata poi recepita anche a livello nazionale, e sono state istituite queste breast unit che permettono di affrontare questa malattia in maniera pluridisciplinare, in modo che ci siano tutte le competenze mediche, scientifiche per affrontare la malattia e che la donna in questo caso sia al centro e che tutti gli specialisti ruotino intorno a queste donne, e quindi non devono più andarsi a cercare prima il chirurgo da una parte, poi il radioterapista dall'altra, poi l'oncologo ancora dall'altra parte. Quindi queste breast unit sono delle unità spesso fisiche, cioè concentrate all'interno di un ospedale, a volte magari più funzionali, che raggruppano due o tre ospedali messi insieme, in realtà più piccole, dove però si trovano tutte le competenze, tutti i casi vengono discussi in maniera collegiale, perché il percorso non è uguale per tutti, non c'è il tumore della mammella, ci sono tanti tumori della mammella con caratteristiche diverse e che hanno quindi una strategia terapeutica diversa, con dei percorsi che spesso iniziano con la chirurgia, ma non sempre, oggi molto spesso il percorso inizia con una terapia medica e la chirurgia arriva poi in un secondo tempo. E quindi in ogni caso deve essere discusso in maniera collegiale, avendo tutti gli elementi, cioè un esame istologico, una stadiazione, quindi fatta prima una biopsia, bisogna avere tutte le informazioni sul tipo di tumore, sulle sue caratteristiche biologiche, molecolari, e con queste si può davvero, con questo approccio multidisciplinare, aumentare in maniera veramente significativa le possibilità di guarigione per tutte le donne che passano attraverso questa patologia. Quindi è davvero importante in caso di diagnosi, di un sospetto diagnostico, a recarsi presso una Bresti Uniti, ce ne sono in tutte le città ormai, quindi è abbastanza facile trovare, non fermarsi magari nell'ospedale sotto casa che è più vicino, però magari non è adeguato per trattare la malattia, anzi dovrebbe proprio essere vietato, se lo sarà a breve, vietato curare queste malattie in centri che non sono dove non c'è la Bresti Uniti certificata, perché occorre proprio un timbro, tra virgolette, perché bisogna avere delle caratteristiche di indicatori di qualità, di casistica, di numerosità e di competenza dei vari specialisti. Senti Paolo, questa tua sensibilità, come hai fatto fatica a mantenerla ed essere comunque risolutivo nel programmare una diagnosi, una terapia. Il tuo papà diceva, se un medico non è empatico con il proprio paziente, ha sbagliato mestiere. Però tanti medici, per riuscire a risolvere il problema, avere i nervi saldi, sembrano gelidi, ma è un sistema di difesa per permettere di svolgere la professione. In te c'è la sensibilità sincera e c'è la capacità ovviamente del professionista. Io faccio proprio il contrario, tendo a essere molto vicino a tutte le donne che ho seguito, che ho visto tutti i giorni e devo dire che questa cosa l'ho imparata dal papà. Non è che me la sono inventata, ho lavorato insieme tantissimi anni, fin da ragazzo, appena laureato andavo in studio da lui così a imparare, a fare il ragazzo di bottega, ho 25 anni e allora ho sempre fatto solo questo. E quindi da lui ho capito perché tutte le sue pazienti lo amavano così, perché mi aveva veramente questa sensibilità e questo affetto, direi sincero, verso le donne. Questo è un po' l'ereditato, ho cercato di metterlo a frutto, magari non sempre ci riesco, però comunque ci provo. Ci provo e il riscontro lo c'è. Anche mantenere il rapporto con le donne, per esempio tutte le donne, e qui di sotto il mio telefono non lo do, però do sempre la mia mail. Tutte le donne mi scrivono, mi scrivono di giorno, mi scrivono di notte, mi scrivono di mattina, di sabato e di domenica e io rispondo subito. E questo anche la sera, magari la sera tardi, prima di andare a letto, non riesco ad andare a dormire se non ho ancora, sul cellulare c'è ancora un numero uno che non ha risposta. E questo consente di mantenere un rapporto, perché se uno ha un dubbio, un'incertezza, una cosa, avere una risposta immediata credo sia importante. Assolutamente. Ma questo è l'inizio del libro però, perché lui scrive Credo di ricordare ognuna delle 8.000 donne che ha operato in questi anni di professione. E uno dice, ma no, ma non è vero. Magari i frammenti, quella lacrima che ha attraversato dritta la guancia, la seretta forte della mano, la gioia dopo una buona notizia, le parole coraggiose, le parole sagge. Le mie pazienti sono 8.000 pezzi di me e mi hanno insegnato più di quanto qualsiasi chirurgo oncologo possa imparare all'università o in sala operatoria. Anche questa è un'affermazione forte. Vi rendete conto? 8.000 pazienti e lui se le ricorda. Ed è vero. Perché poi, quando Paolo ha presentato il libro sul suo profilo Instagram, che mai è diventata la nostra televisione privata e personale, ma nel caso di Paolo invece è un modo per comunicare anche con una comunità di pazienti. E beh, lì sotto tra i commenti vedi, è vero, si è ricordato di chiedermi come stava mio figlio che aveva avuto l'influenza, è vero, si è ricordato di chiedermi se avevano poi finito i lavori in quella casa al mare che avevo comprato. Perché poi alcune persone, noi siamo così, quando andiamo dal medico siamo un po' agitati e ci mettiamo a raccontare anche cose magari effimere. E però poi invece la visita successiva, Paolo che deve avere una gran memoria, questa sì, genetica penso, ha una grande memoria e allora poi si ricorda di tutte le pazienti e non solo della patologia, ma anche di questi fatti personali. Io conosco Paolo da tanto tempo. La cosa che mi ha stupito è che lui studia moltissimo. Mi ha stupito non perché a vederlo uno dice no, non studia. No, perché ci si immagina che un medico arrivato a un certo punto, a un grande traguardo della propria professione, magari non abbia bisogno di mettersi a studiare ogni singolo caso. E invece Paolo lo fa e questo credo che sia la principale garanzia per una paziente che va a operarsi da lui. Ma sai, il fatto di ascoltare le donne non è solo diciamo uno sfizio o una perita di tempo o una curiosità in realtà. È importante secondo me ascoltare, cioè farsi raccontare cose che magari sembrano banali, ma perché dietro ogni donna c'è un mondo, capito? C'è un mondo di famiglia, di lavoro, di aspirazioni e di progetti che tu devi capire, devi capire per dare a questa donna anche delle risposte che siano in linea con quelli che sono i suoi progetti. Perché solo così la donna poi ti seguirà con fiducia, nella terapia. Perché se tu cominci a dire a una donna che appunto scopri, ci parli, ti racconta, e ti dice che dovrebbe avere un figlio e tu gli cominci a parlare di una cosa che il figlio non ne avrà più, ti diceva grazie, arrivederci, se ne va e la perdi, tra virgolette, perché poi magari appunto va a sentire il santone che gli racconta le terapie magiche alternative, che ancora ce ne sono. Quindi tu devi fare in modo che queste persone poi ti seguano, devi conquistare la loro fiducia e se non le ascolti non puoi sapere quelli che sono i loro desideri. Poi magari te li ricordi e serve anche così a dargli quel tocco di personalizzazione che non le fa sentire appunto delle persone qualunque, ma loro stesse. Anche chiamarle per nome, le chiamo sempre per nome, non per cognome. Questo aiuta. Aiuta. Però davvero è utile soprattutto a me, a noi, per capire che cosa dire è come fare in modo che queste persone poi ti seguano, seguano con fiducia e non scappino. Certo. E senti, non so se l'hai notato anche tu, adesso vabbè, con le pandemie non possono essere accompagnate, quindi entrano da sole, però è una cosa che notavo io, perché comunque mi metto anche io a chiacchierare, per cercare di capire qual è il loro mondo, come dici tu. Allora dico, ah ma l'altra volta al prericovero c'era il marito, eh no, adesso c'è la sorella, c'è la mamma. L'uomo dopo un po' non ce la fa, ma sono certa che non c'entri l'amore, ma la struttura, forse la forza psichica di fronte ad una compagna, una moglie malata in quel momento. E lì ci sono due reazioni completamente diverse, ci sono gli uomini che la vivono direttamente in prima persona, cioè sono loro, come se fossero ammalati loro, quindi sono loro che parlano, loro che ti portano gli esami, loro che ti scrivono, e si identificano proprio con la moglie e anche con la malattia. E quindi il rapporto in un certo senso si salda, tra virgolette. E poi invece ce ne sono tanti che scappano, no, proprio a un certo punto non ce la fanno, e infatti molte coppie si scoppiano, tra virgolette, proprio perché la malattia può mettere un cuneo tra due persone, gli uomini poi non hanno il coraggio delle donne, delle volte non riescono ad affrontare la patologia, gli interventi, o magari le chemioterapie, e quindi capita. Capita. Capitata una signora che è arrivata, che è stato il suo marito o il suo compagno, appena ha saputo la diagnosi mi ha lasciato, ancora prima di venire a fare la visita, per dire. Situazioni imbarazzanti, poi per fortuna le donne hanno una forza tale che superano anche questo, quindi vanno avanti comunque. Infatti tanti ne vedo di uomini qui, sono contenta, perché anche la mamma mi diceva, sai che infatti io scrivo, venite alla presentazione, ah no, lo dico a mia moglie, ah magari lo dico, ma all'uomo no. Quindi bene che ci sia un po' più di coraggio. Oltre è una malattia che ogni tanto colpisce anche gli uomini, questa è una cosa che nessuno sa, o pochi sanno, e purtroppo arrivano uomini con tumori anche… Vittorio Feltri ha scritto un articolo in cui confessava di avere questo tipo di tumore. Sì, dopo 60-60 anni c'è questo piccolo rischio, non è una cosa frequente, per cui non ha senso fare esami di prevenzione, però invece se c'è un sintomo, cioè se si sente qualche cosa, è importante andare a farsi vedere subito, perché molti non ci pensano, dicono ma non sarà niente, perché sono un uomo, non posso avere… Invece ci sono, si curano bene, si guariscono bene, però bisogna sapere che c'è e andare a farsi vedere. All'inizio ti ho chiesto qual era l'obiettivo del libro, perché mi sembrava tra le pagine di sentire un po' un'urgenza nel voler comunicare a tutte le donne di quanto sia importante questa prevenzione secondaria, di quanto sia possibile ritornare ad una vita normale, avere figli, fare dei progetti, anche l'urgenza nelle fake news, nel capitolo di smentire delle informazioni che sono completamente fasulle. E arriva bene, veramente, grazie. E lì quella più bella era quella del reggiseno, che c'era un libro scritto a due americani che dicevano che il tumore della lamella era causato dai reggiseni, perché le donne americane usano il reggiseno, hanno tanti tumori, e le donne della popolazione maori non usano il reggiseno e hanno effettivamente pochi tumori. Peccato che naturalmente manca la base scientifica, perché quando poi pari di popolazione che hanno stili di vita completamente diversi, è vero che il rischio è diverso, ma è legato sicuramente al reggiseno, infatti parla totalmente smentita, ma è legato allo stile di vita. Quindi sicuramente il nostro stile di vita è implicato nel rischio di avere questo tumore, quindi lo stile di vita, chiamiamolo occidentale, mentre le popolazioni, chiamiamolo via di sviluppo, che hanno uno stile di vita più rurale, hanno molto meno rischio. Quindi sicuramente è importante quello che mangiamo, come ci muoviamo, il nostro lavoro, l'area che respiriamo, è proprio legato sicuramente all'ambiente. Va bene. Senti Eliana, questo è il sesto volume della collana Scienze per la vita. Cosa hai in cantiere? È una collana giovane, è nata da poco, circa quattro libri all'anno, quindi è proprio una collana giovanissima. Abbiamo già dei libri di successo, soprattutto il primo, e io ho capito che ci devono essere dei problemini diffusi, perché il primo si intitola La pancia lo sa, ed è stato scritto da un gastroenterologo, da un primario di gastroenterologia dell'ospedale San Raffaele di Milano, e racconta le connessioni tra il nostro primo cervello, che è quello cranico, e il secondo cervello, che invece abbiamo qui nella pancia. e in un periodo come quello della pandemia, assieme all'epidemia di coronavirus, si è diffusa un'epidemia evidentemente di mal di pancia, dovuta probabilmente anche allo stress e alle preoccupazioni che hanno esacerbato, magari alcune problematiche, bruciori, gonfioni, intestini irritabili, che c'erano prima. E poi anche perché il coronavirus, in certe versioni, si lega proprio ai recettori dell'intestino, quindi magari una conseguenza poi della malattia può essere quella. Un altro libro che è piaciuto molto è quello di Emanuele Iannini, non so se avete presente il sessuologo col papillon, che ha una rubrica fissa su Quark, di Piero Angela, e allora infatti quel libro Uomini che piacciono alle donne ha proprio la prefazione del maestro della divulgazione scientifica, che è Piero Angela. Poi altri libri sono in cantiere, il prossimo è di una neuroscienziata, Michela Matteoli, è la direttrice delle neuroscienze del CNR, uscirà a settembre e ci racconterà come fare a mantenere una mente longeva e a sperare di scansare le malattie neurodegenerative che qualche problema lo creano da un certo punto in avanti. Ancora invece a novembre, un libro che nasce in collaborazione con la tua fondazione, Paolo, con la fondazione Umberto Veronesi, Veronesi, a firmarlo è un giovane filosofo della scienza, esperto di bioetica, che si chiama Marco Annoni e che è del comitato etico della fondazione Veronesi. Io credo che sarà un libro bellissimo, non vedo l'ora di leggerlo, ne ho letto dei pezzetti. La felicità è un dono, cioè una guida su basi scientifiche a quanto l'altruismo consapevole faccia bene a un mondo che speriamo sia migliore, ma fa bene anche a noi stessi, ci rende meno depressi, meno felici e chissà, forse anche più longevi. Bene. Quindi direi di concludere, di ringrazio. Non lo so se c'era la possibilità delle domande dal pubblico, chiediamo esatto a Bambi. Di solito lasciamo poco le domande al pubblico perché è sempre un discorso non così facile da condurre, perché poi sono delle cose magari personali, che magari si interessano tutti, però certe volte abbiamo avuto in 34 anni anche delle esperienze un po' più pesantine, per cui se c'è proprio qualcosa, se no abbiamo la mail e c'è la possibilità, perché se no esce sempre un grande ego, ecco, e dopo dobbiamo sentire una conferenza magari. Invece volevo ringraziare moltissimo, dire che ci sono i libri, che tra l'altro sia Eliotta che si fermano loro e li possiamo autografare qua su questo, sul palco, e ringraziare ancora a Zat, ringraziare voi che siete qui e sicuramente andremo a casa con dei punti importanti che ci siamo, che sono impressi in noi e con la conoscenza per portare avanti effettivamente queste situazioni nel modo più positivo possibile. e questa è una cosa bella, siamo venuti qua, ma non usciamo tristi, a questo vorrei dire, usciamo tranquilli, usciamo sereni, usciamo che possiamo affrontare i problemi che ci vengono dalla vita. Qualcosa di sicura? Grazie Bambi, grazie davvero Bambi per questo invito graditissimo, ancora grazie per essere stati qua con noi stasera, se qualcuno vuole dedica, facciamo molto volentieri, però credo che sia stata una bella serata, semplice, istruttiva, veloce. Grazie. 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 Grazie.